Sì, signore! Pronto! Avanzate! Pronto all'azione! Avanzate! Ok, go! Formazione! Pronto all'azione! Sì, signore! Sì, signore! Ordini! Avanzate! Ordini! 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 Sordini! Attento! Pronto, signore! Formazione! Ordini! 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 Grazie a tutti Comandi Pronto all'azione Attento Pronto all'azione Formazione Formazione Avanzate Comandi Formazione Pronto all'azione Voi 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 Grazie a tutti. 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 Pronto. Pronto, signore. Grazie a tutti. Pronto. 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 Avanzate. Pronto. 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 . Pronto. signore. Pronto. 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 si signore si signore ordini ordini formazione formazione si signore comandi avanzate comandi ordini pronto signore pronto signore pronto all'azione pronto Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Andiamo.